In studio Veronica Puglisi Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati a una nuova edizione di MTG è stata fissata per giovedì l'autopsia sul corpo di Giuseppe Ottaviano il quarantenne trovato cadavere nel suo appartamento a Scicli tanti i dubbi che avvolgono la sua morte su cui solo i riscontri scientifici potranno dare una chiara lettura di quanto accaduto Eseguita questa mattina all'obitorio dell'ospedale maggiore di Modica l'ispezione cadaverica sul corpo di Giuseppe Ottaviano il quarantenne trovato morto nella sua abitazione di Via Manente a Scicli domenica sera l'autopsia invece giovedì pomeriggio la procura di Ragusa ha conferito in carico al medico legale Giuseppe Algieri Già in queste ore i RIS continueranno i rilievi all'interno dell'abitazione appartamento che è stato trovato con diverse macchie di sangue in più punti ad eccezione dell'ingresso o uscita dello stabile dicono gli inquirenti Ancora non chiare le cause che hanno portato alla morte del quarantenne non può essere escluso, secondo i carabinieri, l'incidente domestico la vista dell'omicidio non viene di certo abbandonata ma solo i riscontri scientifici potranno dare una chiara lettura di quanto è accaduto si presuppone che il quarantenne fosse di passaggio da casa l'uomo che vive con la madre che era fuori città da qualche giorno aveva parcheggiato in modo disordinato nella via di casa una via stretta dove non è possibile parcheggiare se non per poco tempo il vicinato visto che l'auto era in sosta dalla sera di sabato in quel modo e avendo difficoltà per le manovre aveva chiamato le forze dell'ordine per chiamare il carro attrezzi poi la scoperta del cadavere poco dopo all'interno dell'abitazione Peppe Ottaviano è entrato solo in casa? e perché? cos'è successo all'interno dell'appartamento? è caduto così come si ipotizza riportando traumi che poi lo hanno portato alla morte? oppure c'è altro? la casa si presenta in ordine non a soquadro ma ciò non esclude che qualcuno possa averlo raggiunto per un regolamento di conti sfociato poi nell'omicidio le indagini continuano per la strage di Casteldaccia in cui hanno perso la vita 5 operai ci sono altri due indagati che vanno ad aggiungersi al titolare della Quadrifoglio sono un tecnico di Amap e un dirigente della TEC Giovanni Anselmo, amministratore unico di TEC Gaetano Rotolo, direttore responsabile della sicurezza di Amap sono gli altri due indagati per la strage di Casteldaccia in cui hanno perso la vita 5 operai 4 della ditta Quadrifoglio e un interinale di Amap che lavoravano alla rete fognaria devono rispondere di omicidio colposo plurimo e lesioni gravissime ai due si aggiunge anche l'altro indagato raggiunto nei giorni scorsi dall'avviso di garanzia ovvero Nicolo Di Salvo, il titolare della Quadrifoglio al centro dell'indagine, oltre alla catena degli appalti il rispetto delle misure di sicurezza i primi accertamenti hanno rivelato che le vittime non sarebbero dovute scendere all'interno dell'impianto e che non indossavano le protezioni ad uccidere i 5 operai è stato il gas sprigionato dai liquami l'indagine è coordinata dalla Procura di Termini Merese e condotta dalla squadra mobile di Palermo L'operaio, morto sabato scorso mentre lavorava nella paleolica del parco di Contrada Ranchi Bilotto a Salemi non indossava nel casco di protezione nemmeno l'imbracatura necessaria per i lavori in quote quanto hanno potuto accertare i vigili del fuoco intervenuti per il recupero del corpo di Giuseppe Carpinelli 33 anni, originario di San Marco dei Cavoti l'uomo stava lavorando a circa 80 metri d'altezza insieme ad un collega e per cause che sono ancora da accertare è precipitato fino ad un'altezza di 50 metri da terra sempre all'interno del pilone la Procura di Marsala ha aperto un'indagine Parliamo dell'ex Bluetech di Termini Merese perché il gruppo escluso Shara Holding Ltd e Smart City Group ha depositato ricorso al Tar del Lazio è stato depositato al Tar del Lazio e protocollato il ricorso per l'annullamento previa sospensione del provvedimento di assegnazione della gara di cessione dell'ex Bluetech di Termini Merese alla Pelligra Italia Holding a presentarlo è stato l'avvocato Anna Ferraris per conto della cordata Shara Holding e Smart City Group la cui offerta non era stata ritenuta congrua dai commissari straordinari che hanno valutato le proposte per l'acquisizione dello stabilimento l'ufficio legale di Shara Holding e Smart City lo scorso 29 aprile avevano notificato il ricorso a Mimit ai commissari straordinari dell'ex Bluetech all'avvocatura dello Stato e alla Pelligra Italia Holding che si è giudicata la gara per l'acquisizione dello stabilimento con un'offerta di 8 milioni di euro l'operazione prevede la riqualificazione dell'aria industriale e l'assunzione di 350 dipendenti a fronte degli attuali 550 con la restante parte di lavoratori che dovrebbe essere accompagnata alla pensione attraverso un piano da 30 milioni di euro già stanziati dalla regione siciliana ma che non è ancora stato discusso nel merito con i sindacati che proprio ieri avevano chiesto al Mimit di essere convocati la decisione di perfezionare la procedura col deposito del ricorso alla Tar è stata presa dopo che il gruppo Shara Holding e Smart City la cui proposta non era stata considerata congrua ha ricevuto dal Ministero i documenti della gara come da richiesta di accesso agli atti fatta nei mesi scorsi secondo i ricorrenti dei documenti emergerebbero alcune incongruenze in particolare relativa ai punteggi attribuiti alle 5 offerte valutate dai commissari rispetto ai criteri di premialità che erano stati stabiliti nel bando di gara e c'è una notizia appena arrivata in redazione il personale del Vigile del Fuoco di Palermo è intervenuto per il recupero in mare di un cadavere il corpo esanime segnalato da un sub si trovava in zona d'Aura prospicente Lido Acapulco a circa 3 metri dalla costa il recupero è stato effettuato dal personale sommozzatore dei Vigili del Fuoco la salma è stata consegnata alla Guardia Costiera al momento non si conoscono le generalità Cambiamo argomento il lotto Scicli dell'autostrada Siracusa-Gella per l'amministrazione comunale di Ragusa potrebbe vedere l'inizio dei lavori già a gennaio del 2025 a Ragusa invece tira aria diversa Una domanda se ci credo dico sono scettico bisogna trovare tanti soldi Se da una parte arriva una ventata di entusiasmo dal comune di Scicli dal suo sindaco Mario Marino in riferimento all'otto numero 9 che ha avuto uno stanziamento di 600 milioni di euro per la sua realizzazione in riferimento al cantiere della Siracusa-Gela dall'altra scetticismo viene mostrato dal sindaco di Ragusa Peppe Cassì che sui lotti 10 e 11 quindi il prosiego del lotto 9 il lotto che insisterà nel territorio tra Scicli e Ragusa nello specifico a Marina di Ragusa sembra essere più un miraggio che un'opera realizzabile Per il sindaco Cassì invertire le opere cantierabili sarebbe opportuno anziché proseguire dall'otto Scicli verso Gela fare al contrario da Gela verso il territorio di Ragusa questo potrebbe dare risposte importanti al territorio e contestualmente potrebbe collegarlo una volta per tutte così come sta avvenendo per la Ragusa-Catania ha evidenziato il sindaco Cassì un'operazione che tra l'altro andrebbe interessare un tratto di strada che forse è il peggiore tra tutti quelli che sono in questo momento in uso per raggiungere da Ragusa Gela non è detto non è scritto da nessuna parte che si debba proseguire solo da una direzione e mi allaccio al discorso di Ragusa-Catania dove invece come è noto sono stati aggiudicati quattro lotti che in contemporanea hanno iniziato hanno visto l'apertura dei cantieri in modo che alla fine i tratti di strada che servono per arrivare da Ragusa-Catania e viceversa vengono realizzati contemporaneamente quindi ci sarà un disagio di qualche anno perché sicuramente ci sarà un disagio di qualche anno ma alla fine l'opera viene realizzata più velocemente Un disabile in carrozzina è costretto a vivere in una casa inagibile e con le barriere architettoniche la madre Salvina ha segnalato più volte il disagio chiedendo aiuto al comune di Vittoria che non ha mai trovato una soluzione a questa famiglia sollecitato l'assessore all'emergenza abitativa Giuseppe Fiorellini ha chiarito che la signora non è stata lasciata sola La vita difficile di un disabile è il silenzio delle istituzioni lui è Simone ha 32 anni e da quando ha tre mesi convive con una tetraparesispastica colpa di un soffocamento da latte questa è la casa dove abita tra mille difficoltà e un ambiente insalubre mamma Salvina ha affittato questo immobile perché non le rimanevano altre soluzioni paga l'affitto al proprietario che vive a Milano ma l'abitazione necessita di interventi massicci strutturali dei quei costi nessuno vuole può sobbarcarsi questo è il rituale disumano che ogni giorno è costretto a ripetere il compagno di Salvina Massimo Salvina e Lorenzo il fratello più piccolo di Simone per permettere di uscire di casa ed essere accompagnato al centro neuromutolesi di Scoglitti per le terapie mamma Salvina che più volte è stata al comune a sollecitare aiuti ha chiesto all'ente un immobile dignitoso e a piano terra ha chiesto per 5 lunghi anni di darmi un aiuto una casa a pian terreno comunale casa popolare qualche casa privata che me la pago io con le mie forze come riesco a pagare questa qua io ero subentrata in una casa comunale ma me l'hanno tolta addirittura mi hanno buttato tutto quello che era mio là dentro cioè c'erano le vostre cose all'interno di questa casa che poi all'interno di un palazzo è strastrutturato senza preavviso hanno tolto le vostre cose mentre voi non eravate in casa ci hanno fatto una chiamata dopodiché il lunedì successivo hanno aperto la porta e hanno buttato tutto fuori chiedo ed esigo un aiuto e alla signora è stato subito proposto la possibilità appunto di intervenire con direttamente il comune per eliminare le barriere architettoniche che appunto erano in quell'immobile e che tuttavia ha trovato il contrasto da parte del proprietario dell'immobile che non ha autorizzato questa possibilità di svolgere dei lavori e si è rimasti proprio con il consenso della signora con l'impegno di trovare la possibilità di un ulteriore immobile in affitto in modo tale che il comune potesse in qualche modo sopperire e sostenere insieme alla signora le spese anche di un affitto per quanto riguarda il tema dello spostamento delle suppellette che oggi sono state trasferite presso un deposito del comune custodite nella maniera migliore in modo tale non poter essere né danneggiate queste suppellette sono nella piena disponibilità della signora gli ASU ancora non stabilizzati sono sul piede di guerra ad intervenire l'onorevole Ignazio Abbate se gli ASU in provincia di Ragusa non sono stati ancora stabilizzati è per l'ordinanza della regione che sospende in vista delle europee tutti i concorsi o le procedure di assunzioni così come state leggendo in questo documento che vi stiamo mostrando e che arriva dalla regione siciliana dall'ASP di Ragusa fanno sapere che l'attenzione riguardo alle procedure di stabilizzazione degli 84 ASU è massima la direzione strategica aziendale in uno spirito di piena e leale collaborazione si legge in una nota a firma dell'ASP 7 ha intrapreso le necessarie interlocuzioni con gli assessori regionali alla salute e alla famiglia entrambi competenti in materia per l'adempimento degli atti utili all'avvio delle procedure noi ne abbiamo parlato con l'onorevole Ignazio Abbate presidente della commissione affari istituzionali era stato lui attraverso i social ad annunciare come si potesse procedere alla stabilizzazione degli ASU da allora i lavoratori sono stati col fiato sospeso e hanno aspettato giorno dopo giorno di essere convocati ma nulla è cambiato adesso alla luce di queste novità abbiamo chiesto ad Abbate quando effettivamente gli ASU potrebbero essere stabilizzati davvero quando gli ASU della provincia di Ragusa potrebbero a questo punto avere quel contratto da 36 ore a tempo indeterminato all'ASP di Ragusa guardi veresomilmente entro l'estate la procedura è in essere una procedura che va nella direzione di andare a chiedere all'Assemblea regionale rispetto al monte ore e il personale che ha a disposizione quali sono le risorse che devono essere messe a disposizione del singolo lavoratore da questo momento quindi dal momento della stabilizzazione fino all'ultimo giorno di lavoro prima di andare in quescenza in pensione perché il commissario dello Stato ma il governo nazionale ha chiesto che lo stanziamento avvenisse e già programmato avvenisse dal primo all'ultimo giorno non come si pensava gli altri anni soltanto ai distanziamenti annuali Ritorniamo a parlare di cronaca i finanzieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari personali nei confronti di sette persone ritenute responsabili di traffico organizzato di rifiuti Sette persone sarebbero responsabili in concorso con altre undici di traffico organizzato di rifiuti truffa falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio le indagini hanno preso il via dopo la denuncia nel 2022 di una società gestore del servizio di igiene ambientale che segnalava alcuni dipendenti che avrebbero movimentato rifiuti dalla dubbia provenienza per poi conferirli in discarica avvalendosi di automezzi dell'impresa senza autorizzazione l'ordinanza è stata emessa dal GIP ed eseguita dalla guardia di finanza del comando provinciale di Catania le indagini avrebbero fatto luce su un collaudato sistema fraudolento volto all'illecito smaltimento di rifiuti che avrebbe coinvolto diversi dipendenti della società di raccolta dei rifiuti una persona proprietaria di un'area ubicata a Catania utilizzata per l'abusivo stoccaggio e movimentazione di ingenti quantitativi di spazzatura e gli imprenditori committenti dell'attività abusiva di raccolta tra cui in particolare il rappresentante legale di una società di Priolo Gargallo lo scopo sarebbe stato quello di conseguire un ingiusto profitto corrispondente per gli imprenditori al risparmio di spesa derivante dal mancato conferimento dei rifiuti tramite i canali autorizzati e per gli altri indagati dal compenso ricevuto dai committenti per eseguire l'illecito denunciante che si sarebbe avvalso della complicità di altri dipendenti infedeli della stessa impresa le casse dei rifiuti aziendali da smaltire legalmente sarebbero state in un primo momento concentrate presso un'area Catania definita il garage dove il detentore avrebbe provveduto tramite un ragno meccanico alla relativa movimentazione e caricamento sui gasoloni e sugli autocari aziendali all'insaputa della società una volta confusi con i rifiuti solidi urbani provenienti da Catania i conducenti dei mezzi avrebbero provveduto poi al trasporto in discarica direttamente per un'ulteriore miscelazione per effetto del trasbordo del carico su un camion autocompattatore riconducibile all'impresa esponente a Siracusa la polizia di stato ha arrestato uno stalker che non si rassegnava alla fine della relazione con la sua ex compagna ha messo fine alla sua ansia e alle paure dei figli una donna ha avuto il coraggio di denunciare l'ex compagno che la stalkerizzava da tempo il culmine sabato scorso una volante della polizia di stato era stata attirata da un uomo che stava aggredendo la donna molto scossa e impaurita l'uomo non si rassegnava alla fine del rapporto e stava diventando sempre più minaccioso nonostante la denuncia della donna l'ex compagno si era regato a casa della vittima minacciandola ma è riuscita a scappare prima dell'arrivo della polizia di stato la donna ha richiamato la polizia anche nel corso della notte perché l'uomo era ritornato a molestarla così come l'indomani minacciando anche il figlio questa volta però è stato bloccato dagli agenti nei pressi della casa della vittima bloccandolo e arrestandolo per atti persecutori la donna l'aveva denunciato perché il suo atteggiamento era cambiato quando ha deciso di troncare la relazione era diventato violento e possessivo l'uomo adesso si trova agli arresti domiciliari vandali in azione nella piazzetta Beato Puglisi a Palermo distrutti lampioni e danneggiate le foto che ritraggono la visita di Papa Francesco a casa Puglisi per Maurizio Artale presidente del Centro Padre Nostro una scena desolante e sconfortante vandali di nuove nazioni nella piazzetta Beato Padre Pino Puglisi a Palermo due lampioncini sono stati distrutti sono state danneggiate quattro foto che ritraggono la visita di Papa Francesco a casa Puglisi e divelto lo sportello del palo delle telecamere forse per tagliare i cavi questa la denuncia di Maurizio Artale presidente del Centro Padre Nostro 19 giorni fa l'ultimo atto di sfregio alla memoria del Beato Giuseppe Puglisi ha dichiarato non curanti delle indagini in corso incivili continuano ad accanirsi contro questo luogo sacro dove avvenne il martirio del parroco di Brancaccio nessuno sembra preoccuparsi dello stato in cui versa l'area ha detto Artale caratterizzata da sporcizia e incuria è impossibile che io tutte le sere finendo di lavorare al centro Padre Nostro alle nove e mezza di sera poi passando di lì mi devo ricevare a chiamare le forze dell'ordine ora andrò a fare le denunze ne ho fatte almeno un centinaio di queste denunze non ne hanno preso neanche uno uno non l'hanno mai preso nonostante l'ausilio delle telecamere quindi all'altro punto che si deve fare una scena desolante sconfortante aggiunge chiediamo un tavolo sulla sicurezza l'impegno dell'amministrazione comunale e l'intervento della chiesa bisogna che tutti si facciano carico di quel luogo ecco perché ho chiesto un impegno congiunto sia da parte appunto della prefettura nella costituzione di un tavolo sulla sicurezza da parte dell'amministrazione comunale che deve designare che ci sia o un operatore ecologico che tutti i santi giorni vada là a pulire e un giardiniere che una volta a settimana vada là a sistemare le piante e che ci sia pure da parte della chiesa ecco un momento di riparazione quando si viene come dire vandalizzato un luogo sacro si fanno le messe si ciano le messe di riparazione quindi è importante che la comunità oggi faccia vedere da quale parte ci sta e anche in piazza della repubblica a Catania i cittadini dicono servono interventi grate a rischio crollo è uno dei tanti problemi di piazza della repubblica siamo in pieno centro storico a Catania fra corso Sicilia e corso martiri della libertà situazione di degrado con spazzatura agli angoli delle strade e poi senza fissa dimora che qui appunto dormono e la gente ha paura servono interventi urgenti è previsto un non piano di riqualificazione dell'intera area ma intanto in attesa dell'avvio dei lavori bisogna intervenire subito è uno schifo poi c'è una puzza anche di là come mai non fanno una disinvestazione ma chi è giusto nel 2024 c'è le persone qua a centro là sotto materassi messe sdraiate per terra ma è impossibile Catania è diventato un paesaggio il sindaco cosa fa non lo so una donna la sera ha paura di passare da qua non è un problema di miglioramento è un problema di rifare tutto da capo i clienti vengono perché sono affezionati sia alla piazza della repubblica sono affezionati all'attività però il problema è veramente un'indecenza innanzitutto bisognerebbe togliere il dormitorio pubblico che c'è sotto i portici nel bel mezzo di una piazza che praticamente è al centro di Catania e non si può fare così non si può andare avanti così cioè la gente ha paura a passare una mamma con bambini è un grosso problema in una maniera urgente la mia richiesta è di buonificare l'intera aria ed effettuare una deratizzazione come già richiesta da me per scongiurare che l'intera zona non venga in fase ad atopi c'è anche la questione del caldo sta per arrivare e gli odori cattivi che si sentono aumentano sì diversi sono stati gli interventi del consorzio GEMA per effettuare dei lavaggi con disinvestazione ma purtroppo dovuto alla presenza dei senza detto giorno dopo giorno la situazione è sempre più complessa e complicata ci fermiamo c'è la pubblicità a tra poco seconda e ultima parte del nostro telegiornale cerimonia Roma per il conferimento delle bandiere blu la Sicilia Le Toianni Scicli e Taormina entrano a far parte delle bandiere blu della Sicilia 14 in tutto i siti premiati nella nostra regione Lipari Tusa Aliterme Roccalumera Furcisiculo Santa Teresa di Riva Le Toianni Taormina e Scicli le New Entry e poi Modica Ispica Ragusa Menfi e Pozzallo nella cerimonia di premiazione delle bandiere blu oggi nella sede del CNR a Roma alla presenza dei sindaci e del ministro per la protezione civile e delle politiche del mare nello Musumeci il presidente della fondazione FEI Italia Claudio Mazza ha sottolineato come aumenta il numero delle bandiere blu e questo segnala una grande sensibilità da parte del mondo politico per le politiche del mare e dell'ambiente in generale grande rilievo infatti viene dato alla gestione del territorio messa in atto dalle amministrazioni comunali che puntano alla bandiera blu anche per promuovere il proprio territorio a livello turistico i 32 criteri del programma vengono aggiornati periodicamente la successiva approvazione da parte della giuria internazionale ha portato poi al raggiungimento del risultato finale soddisfazione in particolare quest'anno viene espressa da Letoianni Taormina e Scicli quest'ultimo comune vanta i maggiori chilometri di costa in provincia di Ragusa e da anni la città sognava di ottenere il riconoscimento adesso quest'anno il vessillo sventolerà su tutta la costa al via la stagione dei matrimoni le isole Egadi si confermano una scelta ambita per tante coppie italiane e straniere la bellezza delle isole Egadi colpisce ancora numerose le coppie italiane infatti che scelgono questi luoghi incontaminati per unirsi in matrimonio per l'estate 2024 sono già 30 i matrimoni organizzati tra Favignana Marettimo e Levanzo mete scelte non solo per i matrimoni ma anche per la luna di miele è un grande onore per le nostre isole essere scelte da tante coppie italiane ma anche straniere per le loro nozze ha detto il sindaco Francesco Forgione molti ci ritornano dopo aver visitato le nostre isole magari per un periodo di turismo vuol dire che hanno trovato qui luoghi sensazioni emozioni che stimolano desideri passioni forti e stimolano soprattutto la voglia di amore le egadi offrono un ambiente unico e romantico perfetto per celebrare momenti così speciali sono invece le parole di Stefania Bevilacqua assessore con Delega al Turismo molte persone scelgono di sposarsi nelle nostre isole perché sono location da sogno io ringrazio gli sposi di oggi ringrazio tutti gli sposi che scelgono le nostre isole per questo giorno speciale si chiude il caso della depatronizzazione di San Giorgio a Ragusa oggi decreto che sancisce il copatronato San Giovanni Battista è patrono principale della diocesi e della città di Ragusa e San Giorgio Martire è patrono eque principalis della medesima città escluso ogni altro titolo e quanto riporta il documento tanto atteso dal di Castero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti il decreto scritto nero su bianco è stato trasmesso al vescovo di Ragusa Monsignor Giuseppe La Placa la Santa Sede ha chiarito che in via del tutto eccezionale estante la particolare situazione che nel tempo si è venuta a creare alla richiesta che lo scorso 11 marzo era stata indirizzata dal vescovo che sollecitava per ragioni pastorali e storiche di dichiarare San Giorgio patrono della città di Ragusa eque principalis con San Giovanni Battista sia finalmente una risposta un lieto fine per l'associazione storico-culturale San Giorgio Ragusa che aveva avviato delle iniziative per sensibilizzare sulla possibilità di veder declassato il patronato di San Giorgio una controversia ribattezzata in depatronizzazione che oggi fortunatamente dicono dall'associazione rimane solo un ricordo finalmente questa mattina una buona notizia finalmente è arrivato il decreto che tutti i devoti di San Giorgio stavano stavamo aspettando il nostro più sentito ringraziamento al nostro vescovo Monsignor Giuseppe La Placa al nostro parroco e a tutti quei devoti che hanno sostenuto questa questa situazione viva San Giorgio adesso è il momento della festa esterna quindi è un motivo in più per gioire di quanto è successo auguri a tutti viva San Giorgio e non ci sono ulteriori aggiornamenti con questo servizio si chiude questa edizione di MTG grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di giornata su Video Mediterraneo Grazie a tutti Grazie a tutti